buongiorno oggi abbiamo una un'intervista molto particolare perché abbiamo un ospite addirittura che ci parla dalle stelle con uno sfondo stellare eh sono veramente emozionata e orgogliosa nel presentare Claudia Ferretti con cui abbiamo fatto anche un po' di chiacchiere prima dell'intervista e mi sono proprio resa conto di un'affinità di sensibilità e di intenti molto molto forte fra l'altro condividiamo delle esperienze molto simili perché ci occupiamo entrambe di paesaggio sonoro e eh oggi parleremo proprio di eh due cose che sembrano lontane cioè parliamo di Marte dello spazio dei suoni profondi eccetera eccetera ma parliamo soprattutto di di suoni di soni di sonorità di sonificazione tutte parole che a volte vediamo ma non sappiamo usare correttamente quindi per prima cosa chiederei a Claudia di raccontarci velocemente la sua formazione come è arrivata al paesaggio sonoro e a questi studi a questi lei è un'artista eh non è soltanto una studiosa ma è anche un'artista una musicista quindi come abbinare il discorso suono e spazio innanzitutto grazie per questo invito e un saluto a tutti sono Claudia Ferretti ehm io mi definisco eh sonic artist e esperta di analisi sensoriale il mio percorso la mia formazione eh nasce come formazione innanzitutto musicale sin da giovanissima per cui il mio primo approccio con il suono è stata la musica come accade a tantissime a tantissime persone e per cui ho una formazione soprattutto per quello che riguarda il canto e proprio a partire dal canto c'è stato il primo rapporto intenso con il suono perché nel canto noi stessi siamo il nostro strumento musicale per cui bisogna se si approfondisce la materia bisogna approfondire proprio come il suono si sviluppa in noi e sentirlo proprio anche con la propria eccezione e in più accoglie anche tutti i campi dell'espressività dell'emotività perché è uno strumento molto sonoro e molto ehm potente sulla persona studiandolo avvicinandomi anche agli studi di registrazione inizio a capire che il suono può essere raccolto registrato modificato ha una forma ha eh tantissime eh potenzialità e quindi da lì si aprono mondi infiniti nel frattempo ho una formazione in analisi sensoriale per cui per molto tempo ho lavorato proprio eh sullo studio della percezione e la psicofisiologia dei sensi e anche le modalità per eh misurare e comprendere in modo scientifico il percepito unendo tutto questo inevitabilmente dico io sono arrivata anche a il paesaggio sonoro e eh lo studio non solo di come è fatto il suono e quindi l'acustica ma proprio anche come ehm si sviluppa si crea cosa ci raccontano i suoni intorno a noi e come leggerli come sono strutturati da qui alle stelle però il passo non è non è proprio così piccolo e vicino ehm è stata proprio una curiosità secondo me in questi settori di ricerca dell'arte se non si ha un po' uno spirito avventuriero e curioso ehm inevitabilmente si diventa un po' desuiti a se stessi e quindi ehm così quasi ingenuamente ehm all'interno di percorsi che univano un po' la musica elettronica la voce eh dati numeri un giorno ho pensato sarebbe bello anche conoscere qualcosa che leghi l'universo al suono al che ehm rispolverando un po' di conoscenze entro finalmente in contatto eh e conosco ehm il uno dei capostipidi di quello che è poi quello che sarebbe diventato Sony Cosmos che è il progetto di cui parleremo e è Sandro Bardelli che è un astrofisico eh dell'INEF cioè l'Istituto Nazionale di Astrofisica Italiana eh con sede a Bologna per cui conosco Sandro Bardelli che si occupa molto anche di divulgazione eh scientifica per cui è anche molto davvero bravo entusiasta nel raccontare nello spiegare in modo semplice ehm fenomeni molto complessi come l'universo eh tipo l'universo e e lui mi ha mi ha dato questa matrice di dati dati che derivano dai very large telescopes che sono in questi deserti del Cile perché eh lì c'è poca umidità ehm riescono proprio a vedere molto 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 lontano nello spazio tempo mi dà questa matrice mhm che è impossibile scrollare col mouse per esempio perché sono erano tantissime galassie cioè ogni riga era una galassia una matrice Excel normalissima ma enorme ogni riga una galassia ogni colonna una caratteristica di questa galassia per cui la massa la luminosità la star formation rate la che è quante stelle fa questa galassia eh grandi come il sole al momento dell'osservazione ehm luminosità assoluta e redshift ogni 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 colonna era una caratteristica gli astrofisici usano questi telescopi per conoscere l'universo e la storia dell'universo perché più lontano vedono più vedono un universo giovane come era tanto tempo fa per cui le galassie più vicine a noi corrispondono all'universo come è ora vecchio più stanco con le galassie lontane tra loro più va in là nel tempo spazio più vedono un universo come era quando era giovane per cui è proprio un libro della storia dell'universo a questo punto l'unione qui fa la fa la forza l'interdisciplinarità fa la forza perché io so cosa ci si può fare con queste con questi dati so che si possono sonificare ma non sono un'informatica allora il team si è espanso abbiamo coinvolto Giorgio Presti dell'università degli studi di Milano in particolare del laboratorio di informatica musicale che è un laboratorio pazzesco fanno delle cose bellissime interdisciplinari anche legate alla disabilità fanno veramente dei progetti stupendi e Maurizio Rinaldi che è un sound designer e anche fisico per cui il nostro team è andato al completo in questo modo anche abbiamo iniziato a lavorare a lavorare fare ricerca è l'inizio il big bang da cui tutto è partito io sono andata ad ascoltarmi di questi suoni che avete che avete creato che sono effettivamente molto suggestivi che in realtà uno dice come fanno arrivare suoni dallo spazio profondo ma appunto tu ci spieghi che la personificazione è proprio questo cioè praticamente il suono è un linguaggio eh per tradurre come noi traduciamo eh un libro da una lingua all'altra noi qui stiamo traducendo il cosmo da un linguaggio a un altro e in passato una volta che ascoltai una conferenza di Flavio Vetrano eh astrofisico eh che eh del progetto Virgo e che parlava del dei suoni che arrivavano dai buchi neri e io andai e proprio preso un appuntamento e dissi scusi ma come fa a parlare di suoni che arrivano dai buchi neri perché poi sono come te curiosa e lui mi disse è vero è sbagliato parlare di suoni però la cosa più vicina a questo linguaggio più vicina a queste vibrazioni sono i suoni quindi anche se noi diciamo vedere e anche tu dicevi si vede lontano in realtà l'udito la capacità di ascoltare è molto più stimolata rispetto alla vista perché noi ascoltiamo più lontano di quanto non non riusciamo a vedere no? Tra l'altro se abbiamo un muro davanti non vediamo più niente ma se abbiamo un muro davanti sentiamo lo stesso le voci dietro il muro quindi questa questa cosa mi sembra veramente affascinante e veramente pazzesca poi il discorso dell'inclusività per cui mi dici che c'è anche un progetto appunto per disabili quindi sono delle cose veramente queste bellissime e hai trovato un ambito artistico che è molto molto suggestivo e molto molto ricco di di possibilità credo e mi sembra veramente stupendo anche il discorso di parlare di arte sensoriale analisi sensoriale e sono così tu sei una sonic artist ecco già questo mi piace mi piace da matti e poi hai detto due parole anticipando la domanda che io faccio la sempre è che faccio sempre alla fine è che cosa porteresti su Marte e io a questo punto so già cosa porteresti su Marte perché hai parlato di spirito avventuriero e curioso ecco mi sembra che è una parola che piace molto a Marte perché abbiamo il rover però lo spirito avventuriero che non è detto che debba essere il lo sguardo colonizzatore che debba essere l'invasore è proprio un'altra cosa è quella ricerca di avventura eh al fine della conoscenza dell'altro del mondo e anche di sé e concludo un attimo poi ti ripasso la parola a te un un video stupendo che ho avuto la fortuna appunto di vedere poi metteremo magari il link è quello dove passi dal dall'embrione dal bambino prima ancora che nasca e quindi dai suoni prenatali fino a parlare appunto dei suoni dell'universo come a trovare appunto quel collegamento che in effetti ci appartiene fin da prima di nascere perché il bambino come tu dici prima ascolta e poi vede il bambino agli occhi chiusi prima di nascere quindi non c'è storia quindi veramente un progetto importantissimo ci spieghi che cos'è questo questo progetto Sony Cosmos grazie mille Sony Cosmos è un progetto di sonificazione dei dati cos'è una sonificazione cioè quel processo attraverso cui un set di dati qualsiasi per cui numeri eh vengono trasformati come una traduzione davvero proprio in un suono per investigare le relazioni tra essi e poi può essere utilizzato scopi eh di utilizzo pratico tecnico il bip bip del cardiogramma è una sonificazione o anche per scopi artistici come nel nostro caso e anche scientifici contemporaneamente è un po' come aver preso tutti questi dati e anziché eh tramutarli in un grafico o in un video come solitamente si è abituati a fare no? ehm li abbiamo decodificati e proprio con una leggenda trasformati in suono per cui ogni galassia anzi il tempo no dall'oggi a il passato fino fin dove vedono questi telescopi o fin dove i dati ci permettevano di elaborare in un modo congruo il tutto per cui fino a circa sette miliardi di anni fa sette miliardi di spazio tempo fa tipo ehm si susseguono più eh circa 8000 galassie dall'oggi a appunto fin dove vedono questi telescopi ogni singolo evento sonoro che nasce da sinusoide ogni evento sonoro è una galassia così come come viene letta dai telescopi come loro ce lo dicono come ce lo dice l'universo per cui da adesso compaiono pam una galassia pam un'altra ma non compaiono semplicemente vogliamo capire anche come siano queste galassie per cui la massa per esempio ehm viene data dalla frequenza per cui se una galassia è piccola tra virgolette piccola rispetto al parametri appunto l'unità di misura quando è piccola la frequenza è più alta quando è grande la massa grande una frequenza più bassa se è molto luminosa allora sarà l'intensità per cui ha un volume se è molto luminosa più alto alta intensità se invece è poco luminosa sarà un volume più basso se ha una star formation rate alta cioè se fa tante stelle eh avrà delle code dei glitch più lunghi e se invece ne fa poche sarà un suono più breve per cui c'è questa leggenda proprio un po' come se fossero dei colori no delle forme invece sono delle caratteristiche del suono con questa leggenda noi dell'oggi fino a sette miliardi di anni fa sentiamo cosa succede nell'universo la storia dell'universo e la cosa più bella è che anche i silenzi hanno un senso perché i silenzi sono i vuoti cosmici tra le galassie e lì la pelle d'oca per me per chi è malato di queste cose ci stai facendo fare un viaggio fantastico proprio fantastico perché non non esiste altro modo di conoscere la storia di sette miliardi di anni se non possiamo andare al cinema cioè la possiamo vedere la possiamo immaginare ma la stiamo inventando invece questi sono dati veri che ci arrivano dati veri mossi mossi proprio dai dati per cui eh con super collider poi ci sono dei software prima abbiamo fatto tutte delle analisi statistiche per vedere quali dati mantenere quali erano invece correlati positivamente per cui andavano poi a non essere utili per una sonificazione e quindi dopo una ricerca abbastanza lunga un paio d'anni tipo eh sia riusciti a creare questa sonificazione che dura venticinque minuti e anche di perché venticinque minuti perché se troppo breve non si riesce a a comprendere no eh il susseguirsi degli eventi se troppo potrebbe durare anche una settimana ma sarebbe un po noiosa un po troppo lunga per cui venticinque minuti è stato un po il margine che abbiamo trovato per capire comprendere il susseguirsi degli eventi dando ecco e tengo a dirlo una veste anche di fruibilità artistica per cui anche rendere belli questi suoni in più sotto cosa c'è c'è tutto un tappeto sonoro dato da eh le statistiche tra i dati e in più c'è anche un suono che cresce nel tempo che e diventa poi la fine della sonificazione una cosa molto importante proprio a prevalere quasi che è un disturbo che rappresenta la nostra sempre minore capacità di vedere lontano nello spazio tempo questa è una sonificazione che noi presentiamo allora prima di tutto l'abbiamo presentata agli enti scientifici per cui la prima primissima apparizione in ambito scientifico oltre che le pubblicazioni su riviste è stata al ventitresimo human computer interaction international conference che abbiamo potuto fare solo online perché era appunto durante il covid e i cui atti sono presentati da springer che appunto è la la rivista l'ente di pubblicazione editrice scientifica per eccellenza internazionale lì tra l'altro devo dire che la bellezza di avere questi dati queste sonificazioni questa ricerca pubblicata su enti scientifici ci fa contattare da ricercatori in tutto il mondo tra questi c'era uno che mi ha colpito tantissimo era un astrofisico che lavorava ai telescopi in cile che poi col tempo per motivi personali è diventato cieco non vedente e ci ha ringraziato perché era un modo per lui per poter ancora vedere questi dati no pazzesco pazzesco la prossima volta se volete venite tutti ci facciamo un team tutto il tuo noi ci divertiamo collettiva perché veramente vorrei conoscere anche i tuoi collaboratori sono sono esterefatta conquistata da questa cosa e un'altra cosa che portiamo su marte comunque è l'arte perché la scienza è ovvio ma l'arte non è così ovvio e questi percorsi che ci fanno capire come l'arte e la scienza non sono due cose separate ma possono essere unite in un unico progetto e anche quando un artista ricerca una scientificità dell'arte che sta facendo è veramente una uno scambio di energie che può solo avere dei vantaggi per per entrambe le cose penso questa sonificazione fruibile sia come conferenza spettacolo per cui l'abbiamo portata al festival della scienza al muse al festival della scienza anche di bergamo di genova all'unosa che è appunto l'united nation office for outer space affair ma anche un'installazione perché poi si è unita un'altra persona al nostro team e non posso non dirlo che è stefano mazzanti che è il nostro light artist per cui la sonificazione è diventata anche un'installazione di luci e suoni i suoni seguono in modo scientifico proprio sono mossi dai dati invece le luci seguono in modo artistico quello che è l'ambiente sonoro per cui a queste due vesti sia di conferenza in cui noi come squadra raccontiamo e poi c'è per esempio sandro ti racconta benissimo tutto l'universo come nasce con le galassie cosa sono giorgio ti racconta tutto sulle sonificazioni ti fa sentire anche la sonificazione di quanti gattini comparirebbero in internet a partire da tale anno a oggi ed è bellissimo con tanto di miagoli questo è la nostra proprio asso nella manica con maurizio che ci spiega tutto il processo perché lui è quello che poi ha creato proprio nella pratica tutta la parte proprio la sonificazione i suoni reali proprio che poi si sentono e l'installazione anche con con Stefano che è un light artist sensibilissimo quindi siamo una super squadra che diventa sempre più grande una super squadra spero che sia possibile trovarvi su internet e seguire le vostre imprese perché io personalmente le ho visto online ma vorrei essere presente e venire a una vostra installazione quindi speriamo che succeda presto teniamoci in contatto e veramente ancora grazie veramente grazie 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 a te